Questa puntata è offerta da Il Ponte, assistenza e cura a domicilio. Carissimi spettatori di Chiasso TV, come potrete ben vedere ci troviamo all'interno di un capannone, un capannone bellissimo, allestito nel campo da calcio dell'oratorio di Balerna e oggi siamo qui con Katia Priolo, ciao Katia, perché dopo il grande successo dell'anno scorso, della piazza che balla fatta a Chiasso, quest'anno l'ha fatta ancora più in grande insieme agli scout di Balerna, è corretto? Grazie a tutti.